35 arresti e 70 indagati. Sono questi i numeri del blitz antimafia Esperia condotto dai carabinieri nel Trapanese e che secondo le risultanze investigative ha inferto un durissimo colpo alla rete di fedelissimi del numero 1 di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro. Accuse pesanti quelle contestate a vario titolo dai PM della DDA di Palermo, competente per territorio sulle inchieste di mafia nella zona di Trapani. Si va dall'associazione mafiosa all'estorsione e poi anche turbata libertà degli incanti, accuse in materia di stupefacenti, porto abusivo di armi, gioco d'azzardo e altri reati, tutti aggravati dal metodo e dalle modalità mafiose. Una serie di episodi, quelli su cui hanno fatto luce magistrati e carabinieri, che secondo l'accusa dimostrano ancora una volta come gli interessi mafiosi tocchino diversi settori di interesse, anche meno tradizionali da un punto di vista criminale. Gli investigatori stanno proseguendo nell'attività con perquisizioni e sequestri. L'inchiesta si inserisce nel contesto delle attività delle forze dell'ordine mirate alla cattura del boss Matteo Messina Denaro. L'attitante ormai da circa 30 anni è considerato colui che ha raccolto lo scettro di Totò Riina e Bernardo Provenzano. I carabinieri hanno puntato la lente di ingrandimento sul ruolo di numerosi esponenti di spicco delle cosche mafiose della provincia di Trapani e per inquirenti e investigatori resta comunque di primissimo piano il ruolo dello stesso Matteo Messina Denaro, il quale sarebbe ancora in grado di impartire ordini e direttive sulle attività e la struttura dei gruppi criminali.